o la persona sia ben vinto aula di oggi oggi non si vanno a vedere come creare un prodotto configurabile prima cosa che che è un prodotto configurabile un prodotto configurabile è il prodotto che permette varie opzioni di acquisto come può essere una calza con il suo tamaño, le sue cori, un sapato con la sua medida questo è un prodotto configurabile ok quindi non è un semplice prodotto che vanno a rosa e compra in quel momento ma è un prodotto che você precisa scogliere il tamaño per l'appunto e questo diventa un prodotto configurabile. Vamo a creare un nostro, agora, un nostro primo prodotto configurabile ok entriamo aqui in area do WooCommerce, in area del prodotto. Il primo passo che noi dobbiamo fare è scogliere le medita, per esempio il prodotto deve essere da medita P, da medita PP, da medita M, da medita XL e se noi vanno a configurare la parte del attributo per poi prendere questa parte del attributo e passare nel prodotto mesmo ok quindi voglio creare un attributo che sia a tamanho ok, su attributo a tamanho ok, su attributo a tamanho, io deixo, o slag non precisa mexer tanto e poi va compilando sozinho, abilitar archivio se io tengo, per esempio, uno stock di 20 pezzi, in questo caso io vou abilitar o archivio, tra e lì quando acaba 20 pezzi, acabo. A maioria do site io deixo sempre smarcado, perché normalmente è meglio gestire questo da un'altra aba, che a gente vedrà in un'altra videoaula. O tipo, puoi deixar selezionare in modo che come un'altra kinda ciò che io è un'altra persona. Qui c'è una l'altra videota, puoi lasciare solo, non cambiamo con le fondazioni. Ora che noi abbiamo creato il nostro attributo, noi farò un'altra, l'alto della nostra direzione al'altra della in data, come deve essere creato questo attributo, quali sono le cose che deve mettere in questo attributo, in questo caso per esempio può essere pp, una medida piccina, molto piccina, se io voglio, il lag può essere lasciato del stesso modo, tanto si può essere iniziato sognuno, qui se io voglio porre una descrizione della medida, per esempio, puoi porre, in questo caso, medida, no, tamaño, questo è solo per mostrare dove va a aparecer la informazione che non scriviamo qui dentro, adizionare tamaño, altro tamaño può essere pp, ok, vou qui, deixo tutto e qui apparece, in questa abba, apparece, il prodotto con la descrizione, il slug che ho già venito creato sozino, e il contaggio, questo poi, io voglio esplicare il contaggio, dove io voglio mettere il contaggio, ma puoi lasciare per il contatto, non serve per noi, ok, ok, vamo a creare qui, e ora voglio creare a m, voglio scrivere qui, tamagno m, e voglio scrivere qui, xl, da certo? così abbiamo creato tutto differente, ed è facile intender, che sta, non deve apparece la scuola, quindi abbiamo creato questa parte, ora io voglio mettere in ordine, se io voglio mettere in posizioni differenti, cada obgetto, è solo, è solo movimentare li, ok, e deixa in un luogo, e li, pega a posizione, e muda, tutto qui, tutto qui, molto semplice, ok? qui se io voglio escluire, qui se io voglio fare un'edizione rapida, o editare, l'edizione rapida normalmente è quella che agisce semplicemente sul nome slug, mentre l'edizione normale è quella che noi costruimmo con nome slug, Pai, Pai? Cichè? Pai se io voglio che una categoria, la una categoria, faccia parte da altra categoria, Shacoay e scogliere un modrull termina, altri item, e peraye uno in basso di altri, per esempio io voglio che questo item veniva in basso da il tamaio M allora mi darà come poi il tamaio M in basso di questo altro ma per quanto a noi non interessa questo vanno a farlo in cima di nessuno e vanno fuori ora vanno a creare il prodotto in sé ho qui in quanto non crei né un prodotto chiedo adizionare il prodotto se ho il primo prodotto ho adizionato il prodotto è la mesma identica cosa ho qui dentro in questo caso dato che ho il primo prodotto saranno alcune esplicazioni di qualche modo che vanno compilando i dati del prodotto a chi io chiedo di porre la mia loggia camisa voce da qui voce direttamente qui questo è il contenuto principale del suo prodotto a chi vuce scrive il suo prodotto in dettaglio a chi io potrei porre un dettaglio camisa de cor ora vedi che io ottengo una camisa azul azul e qui poi nella descrizione puoi porre tambien foto se io chiedo foto ma questo vanno a aver passo cada passo io consiglio una cosa quando noi stiamo trabalhando questa parte di pubblicare di rastreare all'interno del nostro site sono immagini di foto ok quindi io vado qui immagini di prodotto se io ottengo il prodotto in una galleria in questo caso il site è nuovo puoi qui dentro e pesco da galleria altrimenti puoi inviare archivio puoi nel mio computatore e scoglio la pasta che io chiedo in questo caso io ottengo già una cosa dentro pego e carico ok carichi le immagini decido editare le immagini escluire le immagini consiglio fare tutto tutto da qui dentro solo che io consiglio di usare un programma di editing esterno per editare le immagini perchè il programma all'interno qui di wordpress è giusto o basico per fare questo se scoglio di inviare altro archivio puoi qui in questa pasta se io chiedo continuare devi assicurare che questa 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 linea qui este baffo non sei come si chiama este bigode ecco diciamo così sia nullato diretto ok attivo vamo qui ora e vamo a incluire immagini ecco che immagini apparese in un lato diretto ok quindi una vez incluido testo io incluo immagini a chi temo su una galleria di prodotto che chi ha galleria di prodotto la galleria di prodotto sono anche le prodotto che apparese in basso da nostra da nostra galleria ok quindi vamo a editare un due ascolto giusto per mostrare eh giusto per incluire e mostrare come apparese la nostra galleria a chi ha categoria se c'è una categoria di prodotto se un site è dividito per categoria poi di adizionare categoria e poi si va a scogliere un prodotto in cada in cada categoria ok nostro caso un site sta a comezzo quindi non ten categoria lo caso è solo adizionare la nuova categoria questa parte qua ehm etichetta del prodotto etichetta del prodotto sono un tag che normalmente è lì ehm precisa diciamo ehm pra a internet è come un tag di relazionamento fra il compratore e la nostra piattaforma per esempio se io chiedendo camisa azzur e se alguém va a internet e puxar una camisa azul este o google recebe essas informazioni e manda a pessoa tipo in una posizione più elevata la pesquisa ok questo è molto importante qui salvar come rascolio se io chiedo qualcosa ma non chiedo concluir di pubblicare visualizzare se io chiedo come sta vendo la mia loggia neste momento non visualizzare apre una janela e mi mostra il prodotto che sta ora quando io clicco nella parte della galleria che ho che ho poi ok mi dà la possibilità di poter visualizzare as foto do tamanho che ho ok ok quindi da possibilità di visualizzare e il prodotto apparece nella nostra loggia ora vamos a criar ora o prodotto configurare disculpa faccio questa janela sono esplicazioni che dà il primo prodotto che si fa nella loggia ok ora aqui temos varie casella e prodotto no caso prodotto semplice solo prodotto variabile o configurabile ok aqui sta scritto variabile ma in realtà sarei un prodotto configurabile se noi stiamo uno stock la nostra loggia sia interessante possiamo abilitare il gerenziamento dei stock nel livello del prodotto e le da quantità dei stock che possiate in un magazzino una loggia o no vendere vende individualmente abilitare abilitar para permitir che solamente un disculpa un item desse prodotto se già comprato per pedido in caso che vende solo una pezza per pedido allora potete abilitare questa opzione vedremo a l'intrega quindi quello che vanno a porre come categoria peso chilo alcune informazioni per poi poter integrare un prodotto prodotto relazionato che prodotto relazionato prodotto relazionato in realtà sarebbe per esempio in una camisa cosa potete precisare magari di una di una gravata potete precisare di un di un altro complemento che magari può diventare interessante questa venda come sarebbe per esempio per cigarro o per altri prodotti magari un lettore DVD ok questa è la venda cruzata significa invece poter vendere un prodotto da un prodotto per esempio un computer e io mostro altro tipo di computer differenti e tambien quando apparese noi vanno mostrando queste altre fasce di computer quindi non è un prodotto relazionato ma diventa una vendita cruzata ok attributos io chiedo addizionare l'attributo tamanho entriamo nella nostra situazione del prodotto io chiedo addizionare questo attributo faccio addizionare ok ora io voi escolher ah una cosa molto importante è lembrare che visibile nella pagina del prodotto usato per variazione ok è importante clicare sui per garantire questo io già criei sui 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 tambien se chiedo addizionare un nuovo selezionare e semplicemente utilizzare questi bottoni in questo caso non precisa perchè io già sei che fare perfetto salvar attributos ok allora un aver salvato attributos noi potremmo creare le variazioni che che sono variazioni ok va va mudando ah no disculpa che è in ordine alfabetico ok no 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 sta certo allora io creo il tamaño m voglio creare una variazioni quindi io salvare alterazioni creare oppa disculpa vuoi qui e come sopporre a medida come sopporre in questo caso per esempio vuoi utilizzare alcune immagini ma normalmente ci puoi imporre l'immagine che vuoi che vuoi addizionare immagini abilitato generazione stock ok no tengo un monte di stock quindi non precisa il prezzo 6 reais qui durante il prezzo è importante porre la virgola qui è solo se io tengo una promozione in questo periodo ok per in quanto il prodotto non sta in in promozione quindi adesso qui 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 una descrizione descri che prodotto è questo vamos a vedere M descrizione prodotto PM ok qui vamo a salvare alterazioni perfetto e l'idea ok ok ora chiedo adicione altro ok mesma cosa che ho fatto con M faccio adicione altro sono 4 tamaño sono 4 item adicione ok PP XL ok ok e qui ora desculpa e qui io consigo fare la mesma alterazione ok ora solo per vi mostrare un prezzo differenziato per cada prodotto ok ok vou fazer a imagem vou por a confusione ok mudo ok depois vamos ver e essa é solo para mostrar e mostrar come funziona tá già vou salvando ho aqui insima in este caso era che era SPP ok WAP ok falta immagine coloco un prezzo tipo 80 real esse é tutto simbolico depois descri cada uno por xl perfetto tambem vou salvare e vou sempre salvare dopo cada prodotto per acho che o tamanho che non fiz ainda perfetto ponho sempre a mesma foto ma cada uno pode pôr a foto que quiser o estoque este momento é por 60 reais fazer sempre com virgula ma vou adicionar un outro desconto e abbaixar o prodotto por 50 reais ok così vamos jabe pro mo salvo alterações ok quindi agora configurei o variável do prodotto ok vamo in stato avanzato se tem una nota extra per esempio prodotto different per en avviato solo la descrizione giù sopra mostra ordem numero se quise abilitare avaliações o disabilitare avaliações permettere aos clientes de scrivere algumas informações embaixo do prodotto per esempio eu gostei do prodotto eu fui assim lembrando que tudo isso você consegue moderar você consegue moderar cada situação de comentário e quindi não tem medo que vai aparecer uma coisa estranha embaixo do site che não acontece ok aqui é uma descrição breve sobre o prodotto este prodotto e prova solo pra mostrar onde vai aparecer tudo isso tá agora eu quero visualizar o quero publicar quero publicar dado que visualizar a gente já visualizou vamos a publicar o produto que acontece agora vamos na nossa aba e vamos atualizar o prodotto ok que aconteceu vamos na loja começamos a dizer na loja giusto pra mostrar que está acontecendo a parte a loja tem vários modellos de gestão da loja de ordem de produto a parte isso a grafica é relacionada a cada da template que a gente usa que não é sempre a mesma dependendo do template ela pode mudar ok vamos aqui a ver agora na loja aparece dessa forma o mínimo é 50 o máximo é 120 aqui mostra que tem uma promoção em alguma coisa é que o preço pode em promoção não é 60 que era o nosso item mais barato que eu abaixei por 50 mas algum item desses está na promoção quindi simplesmente vê as opções o cliente vai aqui o cliente olha os custos escolha uma opção tamanho ok olha não permite de comprar ainda porque a pessoa não escolheu o tamanho eu quero aqui m vamos ver ok me dá a imagem que eu havia posto desculpa se a imagem está um pouco feia ok m costo 100 reais este produto em prova que é o que eu escrevi all'interno do produto então aqui aparece uma parte descrição do produto camisa com azul que é a descrição que eu posto no produto a possibilidade de avaliar de adicionar ok e aqui agora permite de comprar o produto ok foi adicionada ao carrinho ok então o produto está pronto para ser comprado tanto aparece em qualquer medida automaticamente vai tirando os preços e vai ponendo os vários preços do produto que a gente aqui mostra o diferencial de outro produto que aqui é preço normal não tem desconto aqui o preço é mais baixo tem também um desconto e mostra o preço cancelado eu penso bom aqui dá para mudar a quantidade dos produtos pessoal riguardo a aula de hoje isto é tudo se precisa de algum algum sugerimento alguma explicação é só entrar em contato comigo o meu site é maurogalota.com muito simples é maurogalota.com e auguro a todo mundo a próxima volta a próxima vez um saludo e até a próxima vez tchau tchau tchau